Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è il consueto video in collaborazione con i piccoli canali Power come al solito giù nell'info box trovate i link di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione allora per questo mese ho pensato di generare il video in maniera un po' diversa, spero che il mio gruppo non si offenda ma io di solito tengo i prodotti che acquisto durante il mese da parte in una busta poi li utilizzo anche però ogni volta vado a riporli nuovamente in questa busta perché altrimenti mi scordo di mostrare cose che ho comprato in questo modo invece è tutto lì siccome a questo giro ho acquistato tante cose, troppe, siamo... aspettate che controllo al 10 di agosto ho acquistato tante cose, devo un po' mettere a posto, ecco non posso stare con la casa piena di buste quindi intanto mostro questi prodotti, sicuramente poi ci sarà un altro segmento attaccato a questo mi vedrete magari vestita o truccata in modo diverso e mano a mano che compro cose registro un segmento di video e poi voi vedrete un video solo, però ecco ho deciso a questo giro di fare così parto con i cosmetici, sono comunque cose che bene o male vi ho fatto vedere in vari video svuota la spesa Lidl, Tigotà eccetera troverete casomai poi tra le schede questi video se vi fa piacere andarli a vedere allora parto con dei prodotti che ho preso da Tigotà, la linea è scontata per tutto il mese di agosto è il marchio Farma Officina che è un marchio certificato IAB Vegan Ok che ha tre linee carbone, zafferano e canapa, ogni linea ha prodotti per viso, corpo e capelli io ho preso la linea al carbone, ho preso il bagno doccia purificante da un bel boccione da mezzo litro poi ho preso lo shampoo purificante, anche questo da mezzo litro mi dispiace non darvi delle prime impressioni su tutti i prodotti ma appunto devo girare il video per mettere poi a posto le cose perché altrimenti non entro più in casa ci aggiorneremo magari nei video dei top e dei flop comunque shampoo purificante e poi ho preso il detergente purificante viso in mani 250 ml, un detergente che ho pensato di utilizzare solamente per quanto riguarda il viso sempre a Tigotà ho preso il bagno doccia rinfrescante Biolis Nature Linea Bronze questo qua è una linea che esalta la bronzatura ed ha il 98% di ingredienti di origine naturale è vegan, non è testato su animali e questo nello specifico è al beta carotene, carotene e menta glaciale poi sono stata alla Lidl e ho preso delle cose di una linea che non è biologica certificata ma è vegana ed ha tot di percentuale di ingredienti di origine naturale ora vi spiego allora ho preso la linea Ginger e Basilico che è una linea per capelli stressati ho preso lo shampoo che ha il 94% di ingredienti di origine naturale ed ha la confezione con il 30% di plastica riciclata e appunto questo è il prodotto tanto poi penso di farvi vedere anche lì nel video se riesco comunque questo shampoo qua ripeto non sono biologiche eccetera però hanno degli ingredienti abbastanza naturali poi ho preso il balsamo sempre vegano questo qua invece ha il 97% di ingredienti di origine naturale eccolo qua e poi ho preso il trattamento qui c'è scritto pure rinforzante ma fondamentalmente è una maschera anche questa ha il 97% di ingredienti di origine naturale sempre da Lidl anche qua non è una linea biologica non è una linea certificata però ve lo mostro lo stesso allora linea aloe fresh di Sien ho preso il tonico vegano con il 99% di ingredienti di origine naturale e poi ho preso il detergente viso anche questo vegano con il 95% di ingredienti di origine naturale eccolo qua sempre da Lidl poi ho preso dei prodotti PH bio allora questa è una maschera per capelli alla castagna che io ho provato ho amato non ho più trovato l'avevano rimessa in vendita quindi appena l'ho vista mi ci sono buttata a capofitto è una maschera certificata IAB vegan ok ed è una maschera fantastica veramente ottima se la trovate provatela è buona anche l'altra la canapa ma questa la castagna mi è piaciuta di più e sempre PH bio però plus ho preso il bagno schiuma rivitalizzante arricchito con oli essenziali di pino silvestri per una pelle rivitalizzata anche qua certificata IAB vegan ok flacone 100% riciclato ed è un bel boccettone da 500 ml poi passando al DM ho preso di Love Beauty and Planet il gel doccia cocco e mimosa l'ho acquistato proprio oggi con il 92% di ingredienti di origine naturale vegano insomma senza coloranti un prodotto comunque ecco con un buon inci 4,90 euro mi sembra mezzo litro di prodotto poi ho preso lo scrub per il corpo di Alverde 3 euro e qualcosa 120 grammi di prodotto quindi insomma non è poi così economico ed è uno scrub corpo al caffè con olio di cocco bio e olio di mandorla questo e mi sembra non mi vorrei sbagliare ma mi sembra che Giulio del canale Giulio dell'elefante un bel po' di tempo fa l'ha mostrato in un video poi ho preso The Essence non è un marchio naturale non è neanche fatto con materiale naturale ma lo inserisco in questo video perché sono dei prodotti che appunto si riutilizzano e non vanno e vanno a sostituire dei dischetti usa e getta quindi lo inserisco in questo video allora sono dei dischetti struccanti della linea quella al miele sono eco-free angli sono composti sono vegani sono composti da poliestere e poliammide il cartoncino credo sia riciclato e sono appunto tre dischetti lavabili poi in lavatrice a 40 gradi struccanti eccoli qua molto carini non li ho ancora utilizzati perché anche questi li ho acquistati oggi zanzare diatriba con delle zanzare io qui non sapevo cosa utilizzare volevo utilizzare dei prodotti naturali non trovavo niente bla 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 alla fine ho preso anche questi li ho acquistati questo l'ho acquistato oggi non vi so dire niente caso mai vi aggiornerò spray per le zanzare 11,50 euro preso in farmacia è uno spray naturale aroma di Guna 2 non so che sia il marchio è Guna è un marchio di Milano quindi italiano questo qua è con olio di Neem è naturale per bambini ed è uno spray omeopatico quindi niente oltre ad essere costosissimo speriamo che funzioni poi preso al Tigotamo ho visto che c'è anche da risparmio casa tra l'altro Gian Giuseppe il signor J mi ha detto che ci si è trovato abbastanza bene io ancora non l'ho utilizzato perché non sono riuscita ancora a trovare delle più lunghe in casa per fare questa roba però fornellino spira green anti zanzare con oli essenziali naturali alla citronella qui c'è naturale con il simbolino cane gatto e bambino oli essenziali naturali di lavanda limone e eucalipto è carino perché si può ammettere sia il fornellino il liquido sia la piastrina è utile e vengono vendute tutte e due quindi molto molto comodo appena riesco a trovare una soluzione di prolunghe vi vi aggiorno poi ho preso anche degli oli essenziali che sono puri anche questi li ho presi oggi al DM allora ho preso l'olio essenziale di citronella costano pochissimo questi oli olio essenziale di citronella poi ho preso olio essenziale di eucalipto olio essenziale di lavanda questo perché mi piace la lavanda non tanto per le zanzare e poi olio essenziale di titri perché io l'avevo finito e anche questo è sempre comodo averlo in casa perché comunque è antibatterico questo qua costava un pochino di più però sono anche 30 ml nel video degli acquisti naturali del mese scorso di Giulia del canale Kina Yoshimoto praticamente ho visto che lei aveva mostrato questi integratori B-Total Body Plus si era trovata bene e ho voluto prenderli sono 20 busti neurosolubili al gusto di agrumi quindi niente ho voluto prenderle e danno un po' di energia magnesio e potassio vi farò un po' sapere li ho trovati in farmacia però ho visto che questi B-Total a parte questo qua Body Plus vengono venduti anche nei DM poi ho preso due prodotti Stop Doll uno lo darò a un mio amico che è questo qua in gel e praticamente serve in caso di contusioni e distorsioni con ingredienti naturali e questo qua è all'armica mentre per me ho preso cerotti sempre del solito marchio sono dei cerotti all'armica e all'artiglio del diavolo per i dolori articolari muscolari e mestruali non sono di quei cerotti che scaldano e mi piacciono tantissimo li trovo molto molto efficaci utilizzo solo questi e mi trovo benissimo passando alla casa allora ho preso della Ebelin come al solito dei Kleenex di carta riciclata sia il cartone esterno sia proprio i Kleenex sono carini anche esteticamente e sono ottimi questa scatolina qua quadrata 99 centesimi questo forse tipo 1,10 euro 1,20 euro ottimi veramente ottimi poi ho preso il sapone questo qua per i piatti l'eco ricarica di Green Emotion ed è certificato Ecolabel ipoallergenico testato al nickel cromo cobalto e piombo olio essenziale di limone materie prime di origine naturale provenienti da fonti rinnovabili ipoallergenico e bla 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 e niente ho voluto provare a prendere questo poi ho preso il deodorante per la vastoviglia di Winnis questo qua elimina cattivi odori efficace a lunga durata testato al nickel cromo cobalto fragranza biodegradabile devo dire che io l'ho messo ha una buona perfumazione non forte non chimica e la vastoviglia perfuma quindi benissimo poi ho preso l'ammorbidente sempre Winnis questo qua è quello ai fiori bianchi che mi sta piacendo tanto ma non è la prima volta che l'ho acquisto certificato SkinEco e niente vegan ok gli amorbidenti Winnis a me piacciono non mi danno fastidio non danno fastidio neanche alla gatta e questo è un litro e 26 di prodotto la Lidl aveva fatto uscire una linea composta da quattro referenze per la pulizia della casa si tratta di una linea vegan e di una linea certificata Ecolabel quindi una linea naturale c'era il detergente quello per i vetri che io non ho preso l'ha preso mia madre ma ha detto che non è buono io ho preso questo qua che è il detergente quello per pulire il bagno mi piace tantissimo ottimo tra l'altro la cosa che mi piace di più di questo prodotto è che sa di bagnoschiuma ha una profumazione rilassante buona ci farei la doccia sul serio quindi è fantastico perché non sa di detersivo non sa soprattutto prodotti per il bagno spesso anche se sono biologici certificati quello che volete a volte hanno delle profumazioni forti che prendono alla gola come i prodotti tradizionali questo appunto sa di bagnoschiuma ed è fantastico tra l'altro un bagnoschiuma profumatissimo di buono e mi sta piacendo molto poi ho preso anche il detergente quello per la cucina qua c'è anche un'immagine del forno questo qua ancora non l'ho utilizzato perché ne sto usando un altro che è tanto così e quindi ormai finisco quello e poi metterò uso questo comunque la stessa profumazione dell'altro per il bagno se sapevo che quello del bagno era così buono avrei fatto una scorta devo dire la verità e poi ho preso questo qua che è il sapone liquido per i piatti anche questo ancora non l'ho non l'ho provato e ho preso due cose di cibo questo che era in offerta alla Lidl Vemondo ed è un prodotto vegano era in offerta l'ho pagato un euro questo qua è una bevanda a base di nocciola con calcio e vitamina A, D e B12 aggiunti senza glutine e niente allora io devo essere sincera l'ho preso perché pensavo che fosse una bevanda alla nocciola invece è proprio latte anche se vegano latte non mi piace non mi piace quindi penso lo darò a dei miei amici vegani a loro piace un sacco il latte alla nocciola quindi lo darò a loro perché io non riesco a berlo ma è un problema mio di rapporto che ho con questi tipi di latte a me non piace il latte di soia non piace il latte di mandorle il latte di cocco a me piace solo il latte latte mischiato al caffè e ai biscotti perché il latte da bere così non è anche quello di mucca quindi problema mio non del prodotto e poi ho preso sempre alla Lido mi sembra tipo 99 centesimi questi triangolini di mais con sale marino di certossa con due S bio e organic senza lievito non fritti hanno appunto la certificazione biologica ma ancora non li ho provati e poi ho preso delle cose per la casa che volevo però mostrarvi allora alla Lidl c'era una cosa che io avevo visto qualche anno fa non volevo non ero riuscita a trovarlo mi era rimasto qui c'era anche l'Ikea ma costa di più e poi l'Ikea io non c'ho nella mia città mi devo spostare l'anno hanno fatto riuscire la Lidl ha fatto nuovamente uscire questi prodotti a distanza di un po' di tempo e volevo mostrarveli sono dei tappi per le pentole in silicone di varie misure 3,90€ mi sembra 3,90€ questo qua grosso che è uno solo 3,90€ questi due medi e poi 3,90€ mi sembra 4 piccolini e voi direte cosa c'entra con gli acquisti naturali dei tappi in silicone c'entra perché questi tappi in silicone che sono comodissimi si possono lavare in lavastoviglie l'ho già lavato vanno nel microonde nel congelatore certificato BPA free sono comodi perché oltre appunto a fare da coperchio per le pentole servono siccome fanno sottovuoto si possono utilizzare anche al posto della pellicola trasparente quindi è per questo che ve li metto in questo video dei prodotti naturali del mese perché vanno a sostituire la pellicola trasparente quelli piccoli non li ho presi perché ho già quelli dell'IKEA tondi piccolini che io utilizzo per tappare le scasolette della gatta e appunto ho preso questi perché vorrei sostituire la pellicola sinceramente e in più avevo bisogno di coperchi e quindi ho preso questi e poi questo in realtà ve lo mostro così perché non ve l'ho mostrato in altri video può essere utile ho preso questo che è rigido anche questo è in silicone può essere messo in lavatrice sì in lavastoviglie è un paraschizzi per l'olio quindi un paraschizzi ma può essere utilizzato anche come sottopentola e anche per scolare la pasta io avevo bisogno di tutte e tre queste cose e ne ho preso uno che faceva queste tre funzioni quindi in realtà ho inquinato meno perché ho acquistato un prodotto invece che te poi questo proprio non ha senso ma ve lo mostro i cubettini per il ghiaccio per fare il ghiaccio in silicone questi qua sono tutti del marchio Ernesto tutti 3,90 euro mi sembra c'erano varie misure io ho preso questo perché non ce l'avevo e mi serviva e invece da Mauriz ho preso questa bellissima insalatiera c'era di varie misure in bambù e niente ve lo volevo mostrare che appunto fibre di bambù e di mais mi sembra aspettate che leggo sì fibra di bambù e mais quindi non è plastica ed è fantastico e c'erano varie insalatiere zuppierine ciottoline insomma varie misure con questo con questa fantasia poi a parte c'erano queste due posatine e c'erano anche altre cose in realtà sempre fatte in bambù con questa fantasia un po' esotica un po' estiva io ho preso questo perché non ho un'insalatiera a casa e non ho delle posate per appunto girare l'insalata e quindi l'ho preso tra l'altro questo qua può essere messo in lavatrice in lavastoviglie ma non nel microonde è anche bella grossina perché ha un diametro di 20 cm però per l'insalata per una persona almeno io un'insalatona così in estate me la mangio molto volentieri e niente volevo mostrarvelo eccoci in un altro segmento di video sono passati diversi giorni quindi ho anche degli aggiornamenti oltre a dei nuovi acquisti il primo aggiornamento è questo siccome non riuscivo a trovare una soluzione per quanto riguarda le prese in camera e il fornellino che ho preso del marchio Spira Green ho regalato quel fornellino a mia mamma e io mi sono comprato questo che è un un vasettino con del liquido al geranio e un bastoncino di legno è gradevole la profumazione non è per niente forte io lo avverto un po' la mattina non dà fastidio né a me né alla gatta e le zanzare tra l'altro se ne sono andate un po' per merito di questo e un po' anche per gli oli essenziali che ho acquistato quindi questo prodotto qua in particolare di questo marchio ve lo consiglio io lo trovo da Tigotà e anche da Mauriz Risparmiocasa ho acquistato Vado Random perché qua ho messo un po' cose a caso ho acquistato queste chips bio alla Lidl di Quinoa queste qua allora le altre che vi avevo mostrato poco fa le ho finite e mi sono piaciute molto queste ancora non le ho aperte però niente per fare merenda mi piacciono soprattutto se insuppati nella Philadelphia sempre per quanto riguarda il cibo ho preso che ho già utilizzato questo qua sempre della Lidl bio del marchio Alesto e questo è un mix di vari semi ci sono pinoli semi di girasole semi di zucca tutti di agricoltura biologica mi piacciono molto da mettere nell'insalata poi sempre dal Lidl ho acquistato delle mascherine lavabili erano tre pezzi e venivano 3,90 io ho preso la taglia M che è questa qua il colore era grigio celeste o rosa allora le mascherine sono queste io le ho già lavate in lavatrice non le indosso adesso perché ho il rossetto però sono comode ci si respira bene una l'ho regalata a mia sorella una la tengo io e una sento mamma se la vuole altrimenti me la tengo ho acquistato per quanto invece riguarda la cura della persona ho acquistato il sapone mani e viso purificante di Biolis Nature quella alla linea carbone bianco giapponese il signor JJ mi aveva consigliato questa linea quindi per adesso ho preso questo che voglio utilizzare sia sulle mani sia sul viso poi ho acquistato due set di al verde un set ho regalato la scatolina a mia sorella quindi vi metto la foto così potete vedere tutta la scatolina composta comunque il set è questo Tropical Dream Sunset con al melone bio e bacche di acai e è composto da crema mani e crema e gel doccia che hanno una profumazione buonissima soprattutto questa qua la crema mani veramente molto molto buona nella crema mani si sente molto di più il melone e poi ho acquistato quest'altro set la scatolina invece la tengo io è un set più estivo sempre di al verde che è composta da tre prodotti gel doccia fluido corpo e spray rinfrescante ed è un set sali marini estratto di fiori di loto bio allora lo spray per il corpo buono rinfrescante voglio provare a metterlo in frigo l'ho utilizzato per adesso pochissime volte leggermente appiccica però che se ne frega e lo metto prima di andare a letto così sono un po' rinfrescata e qua tanto al mattino faccio la doccia e poi invece gel doccia e crema corpo sono queste qua la crema corpo ancora non l'ho aperta il gel doccia ha una profumazione fantastica ho preso quattro cose per la casa una è il cattura odori emulsio della linea quella naturale è un ovettino che ho messo in frigo e per adesso devo dire che sta funzionando ho poi acquistato del marchio dual power linea quella green life il cura lavastoviglie ecologico zero cicli sprecati biodegradabile ho preso questo qua niente lo proverò e e vi farò sapere al tigotai invece mamma mi ha preso l'anticalcare per la lavatrice della winnis non ho mai provato l'anticalcare della winnis proverò e vi farò sapere e poi mi ha preso anche questo ne l'avevo chiesto io di prendermelo il decalcificante per macchine da caffè e bullitore ecco detergenza certificato iscea e vegan ok del marchio verde vo verde vabbè comunque è prodotto da pierpaoli e niente l'avevo visto nel video di rossella siccome tanto tra poco la macchinetta del caffè mi dirà di fare un ciclo l'ho acquistata e niente fatemi sapere se l'avete provata e se a voi piace allora eccomi con l'ultimo segmento di video girato in super velocità dal telefono in una posizione molto molto precaria tra l'altro vedo che questa cartolina qua è anche spostata perché ci gioca il gatto e mi dà fastidio quindi ora poi la sistemo comunque segmento di conclusione vi faccio vedere le ultime quattro cosine al volo uno è di nuovo il mix di semi di alesto questo qua bio preso alla lidl quelli che vi avevo mostrato poco fa che erano già aperti li ho finiti mi sono piaciuti moltissimo nell'insalata mi sono fatta proprio delle scorpacciate di insalata e semini che ne ho anche i friscesi e niente mi sono piaciuti li ho riacquistati e ve li consiglio poi andando appunto alla lidl per prendere questo e altre cosette oggi è giovedì 27 ho trovato anche questi tre prodotti a 1 euro e 49 non erano nel volantino sono di Sien sono dei saponi per le mani molto molto belli con la confezione sono molto carine allora Amsterdam New York e Londra sono dei prodotti certificati Ecolabel 500 millilitri di prodotto stavo cercando appunto con la profumazione di questi di questi prodotti però non non mi sembra che ci sia scritto c'è solamente appunto il disegnino vedete questa è Londra con questo disegnino qua questa è Amsterdam quindi credo siano tutte profumazioni fiorite io ho annusato solamente Amsterdam e ha una profumazione che è molto gradevole ma mi fa venire da sternusire non so perché però mi piace comunque va bene questi tre ultima cosa non è un prodotto biologico certificato però ha un buonissimo inci tra l'altro anche molto corto è questo qua di Balea ne sono uscite due profumazioni praticamente è un peeling doccia esfoliante questo ha il profumo di mango con estratto di avocado di avocado 60 grammi è una confezione monouso l'inci che voi non vedrete mai perché non metterà mai a fuoco qua infatti comunque vabbè ha il sale marino ha l'olio di cocco la profumazione tocoferila acetate poi ha due stratti di piante glicerina acqua scorbi palmitate limonene fine quindi niente è un buon inci ve lo volevo segnalare ok questo è il video credo che sia venuto lunghissimo anche se adesso mi metterò al montaggio penso sia venuto lungo non so quanti segmenti abbia fatto è stata un'eccezione questo mese non ricapiterà mai più io di solito sono quella che compra poco in questi video collaborazione ecco rispetto agli altri ho un po' meno da mostrare invece questo video ci ho dato dentro di brutto io comunque saluto i miei amichetti del gruppo piccoli canali power che sono Giulio Giulia Gian Giuseppe Rossella e Daniela il link non so se l'ho detto all'inizio ma comunque ve lo ridico dei loro canali li trovate giù nell'info box se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao